lavoro, ma lascio poi direttamente a Mario il compito di illustrare il senso e l'impianto di questo seminario. L'unica cosa che voglio aggiungere è che, come voi avrete notato dall'invito, in realtà questa iniziativa è collocata per noi nell'ambito del richiamo al settantesimo della Casa della Cultura. Il settantesimo ricorrerà in realtà a metà marzo, esattamente il 16 marzo del 1946 che venne fondata la Casa della Cultura e noi abbiamo deciso di costruire la celebrazione, chiamata come volete, del settantesimo cercando di recuperare i motivi ispiratori della sua fondazione. E tra i motivi ispiratori della sua fondazione non si può non mettere la centra su quella straordinaria vicenda culturale che si può richiamare al nome della Scuola di Milano, va a dire la Scuola di Pensiero di Antonio Banfi, di tutti i suoi grandi allievi che noi ricorderemo peraltro con un apposito convegno il giorno 3 febbraio, in cui cercheremo di ricostruire la trama complessiva di quell'esperienza, ma richiamare la Scuola di Milano vuol dire richiamare la figura di Banfi, vuol dire richiamare il razionalismo critico e attraverso questa esperienza, come si riallaccia e riemerge profondamente tutto il peso che la cultura illuministica ha avuto dentro quell'esperienza e più in generale dentro la vicenda culturale milanese. Quindi l'operazione che noi facciamo, che l'abbiamo anche un po' sintetizzata, una forma di ragionare su un ritorno al futuro, vale a dire che in queste radici noi troviamo molti elementi che si permettono di guardare, di scrutare anche in avanti e di ragionare sul tipo di attività e di funzione che la Casa della Cultura pensa per il prossimo futuro. Quindi sembrava che fosse perfetto, fosse proprio il modo più giusto e più evidente per rendere il senso di questa operazione, quello di mettere al centro un ragionamento forte sulla stagione dell'illuminismo. Questo è il senso dell'operazione che abbiamo fatto, questo è il senso dell'operazione progettata con Mario Ricciardi, io passo direttamente la parola a lui per incominciare a dare le trama di questo lavoro. Sì, grazie Ferruccio. Io dirò qualche parola di introduzione, l'avrete già notato, manca uno dei relatori, cioè Giulio Giorello, che ha un'indisposizione, purtroppo questo è un periodo in cui capita che qualcuno abbia problemi con l'influenza che gira, però sono presenti gli altri due relatori che sono appunto alla mia destra Alessandro Pagnini dell'Università di Firenze, storico della filosofia, e Roberto Mordacci dell'Università San Raffaele, che è un filosofo morale e che appunto discuteranno con noi dell'illuminismo a partire da alcuni nodi concettuali di cui dirò tra un attimo. Prima volevo dire qualcosa sul ciclo in generale, e questo è un ciclo articolato su Cinque Incontri, e qualcuno di voi probabilmente si sarà chiesto qual è esattamente il tema di cui ci si occupano i Cinque Incontri, perché a parte l'incontro sulla sensibilità e anche l'ultimo, cos'è l'illuminismo, che diciamo hanno dei titoli apparentemente più chiari, gli altri sono dei titoli piuttosto allusivi, e in realtà questa è stata una scelta voluta, perché volevamo evitare una partizione troppo rigida, sia di carattere storico che di carattere disciplinare. Ovviamente questo non è un seminario o un insieme o un programma di seminari accademici. La cosa che volevamo fare è avere una discussione sull'illuminismo e sugli illuminismi, non è un caso che abbiamo scelto un'espressione al plurale, che coinvolgesse non necessariamente soltanto storici della filosofia che si sono occupati dell'illuminismo, ma più in generale filosofi e in alcuni casi anche scienziati sociali, perché a questo ciclo partecipano anche degli economisti e dei giuristi, che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'illuminismo o perché si sono occupati di autori che appartengono all'illuminismo o perché si sono occupati di temi che devono in qualche modo la loro origine all'illuminismo o perché semplicemente hanno una sensibilità illuminista. Questo a Milano è una cosa appunto che si riallaccia poi a un'esperienza che è quella della Scuola di Milano e più in generale del movimento neoluminista e quindi il senso era quello di fare una discussione che non fosse semplicemente un dibattito tra storici o tra storici del pensiero, ma che rendesse conto anche dell'attualità e dei limiti del secolo dei lumi e dell'eredità intellettuale e anche, devo dire, istituzionale che ci ha lasciato, perché noi dobbiamo al secolo dei lumi non solo delle idee molto interessanti, ma anche delle realtà più concrete. Pensate all'idea per esempio della collaborazione sistematica tra gli intellettuali o tra i ricercatori, che è un'idea che si afferma in maniera molto forte nell'illuminismo e poi diventa uno dei pezzi su cui viene costruita la modernità delle accademie, del sistema della ricerca, delle università e così via. Quindi l'idea era una discussione di questo tipo. Abbiamo scelto dei temi che solitamente alludono, ma non tutti lo fanno, a un'opera legata all'illuminismo, comunque alle fasi immediatamente preparatorie dell'illuminismo, come è il caso del titolo di stasera. Però la discussione non verte esclusivamente sull'opera, per questo abbiamo tra l'altro utilizzato delle formule un po' ambigue, non abbiamo fatto riferimento all'autore, quanto piuttosto all'opera come suggestione. Perché l'idea è quella di una discussione che appunto magari tragga spunto dalla discussione delle pene e del sistema penale che c'è in Beccaria, appunto in dei delitti e delle pene, oppure la discussione della felicità pubblica che si trova nei fondatori dell'economia politica, per andare però avanti e per discutere appunto dell'attualità di queste idee e anche di quello che ci dicono oggi. Per esempio io mi aspetto che l'incontro sulle meditazioni sulla felicità pubblica sarà certo un incontro in cui si parlerà di genovesi, si parlerà di Adam Smith, si parlerà ovviamente di Cesare Beccaria, ma credo che si parlerà anche molto dell'economia come scienza sociale, che è un grande tema dell'illuminismo e che come dire, è una delle cose che è in discussione oggi quando appunto si contesta da parte di alcuni lo statuto epistemologico dell'economia e il tipo di ruolo che l'economia ha nel dibattito pubblico di questo paese e anche di molti altri paesi. Per tornare al tema di stasera, l'allusione è ovviamente ai Pensieri sulla cometa di Pierre Beil, che è un'opera che non appartiene all'illuminismo in senso stretto, perché in realtà Beil è normalmente considerato uno dei precursori dell'illuminismo piuttosto che un illuminista, se non altro anche per ragioni cronologiche. l'opera si chiama Pensieri sulla cometa, anzi il titolo lungo, il titolo completo è molto più lungo, perché si chiama Pensieri diversi scritti a un dottore della Sorbona in occasione della cometa che apparve nel dicembre del 1680. Ed è appunto un insieme di riflessioni, che poi tra l'altro conoscono diverse stesure, quindi di cui escono diverse versioni, che parte da questo episodio, cioè il passaggio di una cometa e le reazioni che ci furono al passaggio di questa cometa, per porre alcuni temi, temi che poi diventeranno caratteristici della sensibilità dell'illuminismo. Il punto di partenza nelle prime pagine dell'opera è la reazione che diversi osservatori hanno al passaggio della cometa perché tendono a mettere in relazione, sulla base di quelle che erano le idee e oggi diremmo probabilmente i pregiudizi diffusi a quell'epoca, mettere in relazione il passaggio di una cometa con certi accadimenti sociali o naturali, quindi la cometa come qualcosa che ha un'influenza sulla vita degli uomini, che esercita un'influenza. E infatti il libro si apre con delle pagine molto sarcastiche su questa idea che gli astri influenzino le vicende umane, sull'astrologia, e poi diventa però progressivamente una riflessione che chiama in gioco questioni molto interessanti. Per esempio chiama in gioco il rapporto tra superstizione e ragione, cioè possiamo noi fidarci delle credenze diffuse, possiamo noi fidarci delle opinioni tradizionali, possiamo noi fidarci delle opinioni degli antichi, oppure dobbiamo esaminare le questioni alla luce della ragione. Questo tema nel corso dell'opera, che peraltro è molto lunga, io qui ho portato una versione ridotta, molto ridotta, che fu pubblicata da Feltrinelli molti anni fa, però ne esiste in commercio un'edizione integrale della La Terza, che è un bel librone. Ecco quello lì. Non è integrale neanche quella. Neanche quella è integrale, perché... Questa forse si tratta. No, quella lì sì, quella secondo me c'è. Quella grossa... Però in francese è ancora più lunga, perché ci sono delle... Perché ci sono le revisione, sì, le cose ulteriori, sì, sì. Però il testo, sì, però il testo credo che sia... Quello del 1682. E dicevo, è un'opera che poi progressivamente mette in gioco una serie di temi che diventeranno temi importanti per l'illuminismo. Appunto, uno è questo tema della superstizione, credenze tradizionali, ragione. Un altro è il tema della storia e del senso della storia, perché poi progressivamente nel corso dell'opera Baill discute tutta una serie di esempi che hanno a che fare in qualche modo con l'interpretazione della storia, con l'idea che la storia abbia in qualche modo un significato che noi possiamo individuare, e ovviamente questa cosa diventerà un tema importantissimo per l'illuminismo, perché è legato al grande motivo del progresso, il progresso non solo dal punto di vista materiale, ma soprattutto dal punto di vista morale, che è uno dei tratti caratterizzanti dell'illuminismo. E qui ovviamente l'illuminismo scozzese, Kant, diciamo, ci sono tutta una serie di riferimenti che si potrebbero fare e che credo verranno fuori nella discussione. L'altra cosa molto interessante che viene fuori è che la religione comincia ad avere in qualche modo un ruolo che non è quello che si dava per scontato all'epoca, nel senso che l'uso della ragione e il mettere in questione le spiegazioni soprannaturali degli eventi sociali o naturali comincia a, come dire, incrinare un certo tipo di sensibilità religiosa cristiana. Qui poi la vicenda personale di Baill, su cui magari verrà fuori qualcosa dopo, è di per sé una cosa molto interessante e anche qui ci sono delle cose di grandissimo interesse. Ci sono dei passaggi dell'opera in cui Baill, per esempio, cerca di mostrare che non è affatto detto che una società di atei sia necessariamente una società di persone che vivono male, di persone che vivono in modo immorale. E qui, appunto, come dire, di nuovo si riconoscono dei temi che poi nell'illuminismo diventeranno dei temi particolarmente importanti. Ma in realtà Baill è interessante anche per un'altra ragione, perché nello stesso tempo in cui anticipa dei temi dell'illuminismo, anticipa anche, a mio avviso, quello che forse è il principale limite dell'illuminismo, o comunque quello che molti pensatori hanno visto come un grande limite dell'illuminismo, cioè un eccesso di razionalismo che in alcuni casi finisce addirittura per mettere in discussione poi quegli stessi valori che spesso si associano all'illuminismo. Pensate a valori come l'eguaglianza, valori come la parità dei cittadini, ovviamente valori che non si erano ancora affermati ai tempi di Baill, che però noi normalmente associamo all'illuminismo. E qui volevo riportarvi un, leggervi un brano appunto tratto da uno dei paragrafi iniziali, il paragrafo 48, che devo dire mi ha molto colpito quando ho letto Baill, perché, come dire, giudicherete voi, ma è un tema di cui stiamo discutendo ancora oggi. Lui sta discutendo della questione delle opinioni, come dire, le opinioni di maggioranza in una società, quindi andare dietro l'opinione della maggioranza. E dice, non bisogna conteggiare i voti, ma soppesarli. E il modo di decidere una controversia a maggioranza è soggetto a tanti inconvenienti che viene giustificato in certi casi solo dall'impossibilità di fare altrimenti. Capirete subito da cosa nasce questa impossibilità, cioè dal fatto che sulla Terra non v'è nessuno che possa stabilire con esattezza il valore di un suffraggio nei confronti di un altro, che abbia l'autorità e i lumi necessari per ridurre le opinioni dei membri di una società alla loro giusta portata. Di conseguenza, in certi casi, bisogna adattarsi ad ammettere che ciascuna opinione valga le altre. Ma le controversie filosofiche sono di altro genere. E possiamo quindi disprezzare la convinzione di una massa credula e superstiziosa e accontentarci piuttosto delle ragioni di un piccolo numero di filosofi. Così, signore, infischiandomene del vostro vox populi vox dei, aforisma che una volta accettato legittimamente legittimerebbe i pensieri più ridicoli, sarei del parere di esaminare innanzitutto se è vero che gli anni immediatamente successivi alle comete siano stati segnati da avvenimenti più tragici di quelli che accaddero in altri tempi. Se poi si trovasse che le cose stanno realmente così, continuerei le ricerche per scoprire la causa di tale coincidenza di avvenimenti drammatici con l'apparizione delle comete. E così via. Ora, è davvero un brano interessante, perlomeno lo è per una persona che si occupa di filosofia politica come me, perché da un lato uno non può che condividere quello che dice Baye, no? Cioè, gli argomenti razionali non si basano semplicemente sul consenso della maggioranza. Però la questione è molto aperta in questo momento, no? Noi viviamo in un momento in cui questo tipo di, come dire, di sensibilità illuminista, sembra non riuscire a tenere sotto controllo il timone della barca e cresce il numero di persone che preferisce essere d'accordo con una maggioranza piuttosto che con un gruppo ristretto di accademici illuminati o di commissari europei. Insomma, l'eredità dell'illuminismo ha a che fare anche con queste cose e spero che verranno fuori. Io a questo punto non voglio sottrarre più tempo ai nostri relatori, che sono la vera ragione per cui tutti voi siete qui. Darei subito la parola a Sandro Pagnini, magari per aprire un po' il discorso storico, anche tenendo poi sullo sfondo le tematiche che hanno a che fare più con la questione della conoscenza, del rapporto tra razionalità e superstizione e così via. E poi, appunto, passerei per un primo giro, perché queste non sono conferenze, sono dialoghi, quindi faremo degli interventi brevi con la speranza di farne più d'uno e magari anche di raccogliere poi sollecitazioni dal pubblico. E poi passerei la parola a Roberto Mordacci per guardare un po' più al profilo, appunto, del temi come quello, appunto, il senso della storia, la provvidenza, diciamo, il profilo morale, in qualche modo, dei temi posti, appunto, da queste osservazioni iniziali che ho fatto. Quindi, Sandro Pagnini. Ti ringrazio, grazie. Sono contento di essere qui a parlare di Pier Bail, che è stato un filosofo che il mio maestro Paolo Rossi, ai tempi in cui io frequentavo l'università, coltivava da studioso. Devo dire che l'Italia non è propriamente la nazione, la cultura che si contraddistingue per essere stata più simpatetica nei confronti dell'illuminismo, però vanta degli eccellenti studiosi di illuminismo. Credo che fra i maggiori studiosi di Pier Bail ci siano, appunto, Brogi, Paganini, molti autori italiani che hanno dato contributi importanti. Dico questo perché qui devo fare una professione di modestia. Io non sono uno specialista, faccio lo storico della filosofia, ma in questo caso vi risparmierò tutto quello che ci può essere anche di tedioso negli storici della filosofia, cioè quella cribia, quella insistenza filologica sul restituire a Cesare quello che è di Cesare, non invadere troppo i campi, eccetera. Invece, no, farò un discorso un po' da profano, ecco, da storico che di storia ne ha visitata, ma io fra l'altro sono un docente di storia della filosofia contemporanea, quindi sempre con maggiore attenzione alla storia delle fortune, delle filosofie che ci hanno preceduto, che non uno storico antiquario, diciamo così, che cerca di restituire il più possibile contesti e idee per quelle che sono. Però ritengo, ecco, che un piccolo sforzo su Bail debba essere fatto. Restituire il milieu nel quale questo filosofo ha pensato e ha scritto, come si diceva, nel 1682 questi pensieri diversi sulla cometa, è una cosa abbastanza importante. Intanto per stabilire delle distanze che, tanto per rimanere in tema, ormai sono siderali, perché non so se qualcuno di voi ha avuto la percezione che in questi giorni noi abbiamo salutato una grande cometa. Il 17 di dicembre noi abbiamo salutato la cometa Catalina, che è comparsa visibile nei cieli a Natale. Quindi figuriamoci se eravamo nel periodo di Bail quanti articoli di giornale, erano già nati dagli anni Sessanta del Seicento, giornali di intellettuali, di letterati, di filosofi che dibattevano anche non soltanto problemi e questioni politiche, sociali e morali, ma anche dibattevano di questi eventi. E pensate che la teoria diffusa delle comete era la teoria di Cartesio, che si basava su quanto di meno scientifico oggi si avrebbe di fronte, perché questa teoria dei vortici, vortici nel cielo, fra l'altro fatti di etere, già qui c'era questa sostanza non necessaria, un ente che poi il rasoio della scienza ha tagliato decisamente, ma questi vortici che risucchiavano queste stelle che stavano morendo, che sarebbero state le meteore. E quindi oggi sappiamo ben altro relativamente alle comete, ma soprattutto perché in questo testo non troverete una spiegazione di che cosa sono le comete. Anzi, è abbastanza sorprendente che questi paladini della filosofia naturale, che segna un progresso nei confronti della civiltà ed è un segnavia nella storia del pensiero, perché gli illuministi sono assolutamente consapevoli di fare qualche cosa, di portare un messaggio che è universalmente importante. Guardate che l'illuminismo è un movimento controverso per le periodizzazioni, per le datazioni. Pierre Bail è in genere un autore che in una storia dell'illuminismo trovate a buon diritto considerato, però nonostante sia in fondo un periodo breve, se pensate ad altri periodi precedenti, durano senz'altro molti più di un secolo, però l'illuminismo è uno dei movimenti di idee più pervasivi che fra la Francia, l'Inghilterra, la Germania, addirittura Italia, Spagna, anche l'Oriente dell'Europa, è sicuramente quello che è più vasto, più penetrante, le cui idee poi segnano anche visibilmente, marcatamente, quelle che sono delle scelte politiche, delle idee politiche, dei mutamenti sociali nelle varie nazioni. Però, ecco, dicevo, nonostante questa sua dominanza e questa sua diffusione non c'è, come diceva giustamente Mario Ricciardi, un'idea chiara di che cos'è propriamente l'illuminismo. Anzi, noi storici in genere ci lamentiamo che le immagini che noi abbiamo a disposizione dell'illuminismo, lo diremo probabilmente dopo, quando ci sposteremo più sulla contemporaneità, soffrono di semplificazioni. Probabilmente la semplificazione di Hegel nelle pagine molto importanti della fenomenologia dello spirito dedicate all'illuminismo sono quelle che hanno profondamente condizionato l'immagine che ne abbiamo, però resta il fatto che dobbiamo fare i conti con una realtà che è sicuramente più variegata, più complessa di quella che in genere le immagini, e non soltanto quelle manualistiche, ma anche le immagini filosofiche dell'illuminismo ci restituiscono. Ebbene, allora certiamo un po' di vedere questa figura di Bale perché io sono contento che questo ciclo cominci con lui, proprio prima di tutto perché cronologicamente è una cosa corretta, Bale viene prima di quasi tutti gli altri. Per dirvi, non ci sono ancora i principi a matematica di Newton, non c'è ancora Leibniz, non ci sono ancora, ovviamente non c'è Hume, non c'è, è un contemporaneo di Locke, anzi John Locke è uno dei tanti refugié insieme al conte di Shaftesbury a Rotterdam dove si rifugierà anche il nostro Pierre Bale. Perché? Ecco, facciamo brevissimamente un consuntivo biografico della situazione. Pierre Bale nasce in una provincia francese da famiglia modesta, il padre è un ministro Ugo Notto, studia in una scuola cattolica e ha lì per lì l'ardire di convertirsi. Si converte dal ragazzo al cattolicesimo, poi in poco più di un anno si pente di questa conversione in un brano autobiografico, dice semplicemente che dà la colpa, come in genere nel 600 si dava sempre la colpa ai libri e agli insegnanti, da Cartesio in poi questo è qualcosa di assolutamente diffuso e si è pentito di essersi convertito, ritorna alla religione dei padri che professerà e difenderà proprio sempre anche con un atteggiamento morale che è diverso per esempio da quello dell'amico Fontenelle, che è più diplomatico, che ci vetta con i gesuiti, è una figura completamente diversa ma perché nell'illuminismo e in questo proto-illuminismo ce ne sono di tutti i tipi di figure, quindi cerchiamo di vedere che figura è questo Pierre Bale. È la figura di uno che a un certo punto decide proprio perché in un primo momento in Francia vorrebbe pubblicare questi pensieri diversi sulla cometa, ma l'aveva concepito addirittura come un articolo di giornale del Mercure Galant doveva ricevere queste sue annotazioni sulla cometa e in realtà poi diventano, come vedete dalla mole del libro, un profluvio di idee, di argomentazioni e diventano libro. Questo libro verrà pubblicato a Rotterdam, ma voi tutti sapete che l'Olanda nel 600 è stata un po' lo Stato franco per liberi pensatori, per filosofi naturali che teorizzavano qualcosa che contraddiceva le scritture, che erano in odore di eresia per quel che riguardava la Chiesa romana, ma anche figure di moralisti e di filosofi politici che commentavano le guerre di religione, che commentavano quello che succedeva e ne succedevano tante di cose dalla guerra dei trent'anni in poi nel 600 in maniera che potesse essere in qualche maniera, si direbbe oggi, poco politicamente corretto nei confronti dei regimi degli stati dove vivevano. A Rotterdam c'era la Repubblica delle Lettere. La Repubblica delle Lettere è un evento importante, è un qualche cosa che allaccia l'illuminismo al rinascimento, perché la Repubblica delle Lettere nasce in Italia nel 400, poi sarà Erasmo da Rotterdam appunto a farne nel 500 un centro e soprattutto un'utopia, è una forma di utopia la Repubblica delle Lettere, perché si coltiva l'idea che la sfera della cultura possa essere un mondo che vive autonomamente, indipendentemente dalle divisioni nazionali e religiose e che sia fondato esclusivamente sulla libertà di pensiero, sull'uguaglianza, sull'universalità. Questi sono i temi della Repubblica delle Lettere, di questo stato virtuale che però è vagheggiato da molti e soprattutto è incarnato da questa Repubblica olandese che appunto accoglie intellettuali di tutti i tipi che possono scrivere e pubblicare qualche volta anonimamente, perché questi pensieri diversi sulla cometa compaiono per la prima volta senza il nome di Pier Bail e anche addirittura senza la città di Rotterdam come città dell'edizione, perché si inventa Colonia come città dove compare questo libro e questo perché valeva il motto di Cartesi o l'Arvata Prodeo, in qualche maniera bisognava nascondersi ma per non provocare troppo scalpore, ma l'obiettivo era quello di muovere le idee e questi ci riuscivano e come a muoverle. Il tipo di intervento che fa Bail sul tema delle comete è l'intervento di un nuvellista, di un saggista, di un polemista, di un controversista, non è tanto un filosofo in un senso stretto, lui si forma su Cartesio, sui cartesiani, su Malbranche, la sua educazione è ancora l'educazione tardo-scolastica che ha caratterizzato tutti i collegi e tutti gli istituti, tutte le università fino a 600 avanzato, però conosce Cartesio, conosce i cartesiani, non può conoscere molto di più come vi dicevo perché siamo nel 1682, però diciamo che a differenza di molti suoi contemporanei non è il filosofo, non è il filosofo che riflette originalmente sulla scienza, chiamiamola così, sulla filosofia naturale del tempo, ma se ne occupa da moralista, se ne occupa da chi in qualche modo estrapola dei contenuti anche dalle scoperte e del progresso scientifico e qui bisogna anche fare un'altra considerazione che molto spesso sfugge agli storici che in qualche maniera vogliono rendere conto del milieu dove nascono le idee dell'illuminismo. Da anni c'è una querella che attraverserà tutto il 600 per poi andare oltre, sarà caratteristica di gran parte del 700, c'è un bel libro di Marc Fumaroli che ha raccontato nell'età dell'eloquenza che cos'era questa querella degli antichi e dei moderni. La querella degli antichi e dei moderni e diciamo che Pierre Bail è assolutamente un rappresentante di questa querella. I protagonisti della querella erano letterati, letterati che però veicolavano idee filosofiche di un certo peso, ma l'oggetto del contendere qual è? È l'opposizione fra tradizione e progresso. E voi vedete anche dallo scheletro dell'opera di Bail che vi ha presentato Mario Ricciardi che il tema della tradizione, di come si forma un'opinione comune, di come ci si deve rapportare a quello che viene dall'antichità, dai classici. È un tema fondamentale in questo libro perché si parla con Plutarco, si parla con Senofane, si riattualizzano questi filosofi ma in un gioco dialettico che era molto comune in questi autori perché molto spesso addirittura scimmiottavano con ironia i dialoghi platonici. Riportavano in vita Socrate che parlava con dei loro contemporanei per parlare appunto del bello, del bene, del giusto eccetera. E un po' questo movimento dialettico c'è nello scritto di Bail che cosa vuol fare? Lo dice nelle prime pagine. Dimostrare con svariate ragioni tratte dalla filosofia e dalla teologia che le comete non sono presagi di sventure. Ma tutto qui? Beh, insomma, sarebbe un po' poco. Noi che abbiamo fatto passare la comunità catalina senza neanche accorgersene chiuderemmo subito il libro perché dice ma qui si parla di cose che non mi riguardano più. No, perché parlare di presagi di sventure vuol dire parlare di idolatria, eh? Parlare di superstizione, parlare di tutto quello che forma l'opinione comune, eh? Ci leggeva quel brano molto significativo e impietante. Che cos'è che fa l'opinione comune? Che fa sì che la gente creda in certe cose, eh? È la tradizione, è l'idea che tutti ci si sottrae dalla responsabilità di fare delle scelte sulla base dell'evidenza e dell'argomentazione. Si preferisce pensarla come chi ci sta accanto, come i nostri padri, eh? È la paura, questo è un grande tema dell'illuminismo, è la paura che ci fa credere certe cose e che ci fa stare accanto stretti a delle persone che la pensano come noi, eh? E quindi sì, la tradizione, il senso comune, no, l'evidenza e l'argomentazione. Perché l'evidenza e l'argomentazione sconvolgono e rischiano di mutare dei modi di pensare consolidati che noi ereditiamo dall'antichità. Ma questo era il tema della querelle degli antichi e dei moderni. E non era soltanto il dire, come dicevano molti filosofi naturali del Seicento, che noi siamo nani sulle spalle dei giganti, riportando in auge un motto di Bernardino di Chartres. Cioè dire che noi vediamo più lontano perché sì, siamo nani, facciamo delle piccole scoperte, però siamo sulle spalle di Aristotele, di Platone, dei grandi del passato. No, in questa querelle c'era proprio l'idea che dall'antichità non si poteva imparare nulla, che l'antico non poteva costituire un modello per quello che è la nostra concezione del bello, che era sostanzialmente il tema della querelle, ma neanche per la nostra concezione morale e politica. E quindi l'antichità e la generalità non sono marchi di verità per un'opinione. E qui poi magari approfondiremo la cosa in un secondo intervento, ma subito balza agli occhi il fatto che una sentenza di questo genere va in rotta di collisione con quello che era un'idea che soprattutto i protestanti correligionari di Bail avevano in mente, cioè che era proprio il consenso delle genti una prova di un dio provvidenziale e una prova della verità della religione cristiana. Quindi vedete da questi passaggi il saggista e polemista Bail preferisce l'evento marginale, la cosa di poco conto, partire non certo dal discutere perché si fanno le guerre di religione in quei giorni, parte dalle considerazioni che il senso comune fa su una cometa, ma per arrivare a questi temi e per mettere in contraddittorio le persone fino al punto di far emergere dalle stesse posizioni che sono quelle della religione dominante delle contraddizioni, mettere di fronte alle contraddizioni queste posizioni e quindi per finire di dissolverle scetticamente. Ecco un'altra provenienza importante, perché se abbiamo collocato Bail in questo flusso di idee, di pensieri, di influenze che vanno dal rinascimento fino alle soglie dell'illuminismo, non possiamo dimenticare lo scetticismo, gli scetticismi. La traduzione di Sesto Empirico risale alla fine del Quattrocento e da allora tutta la filosofia occidentale ne viene sconvolta. Per varie ragioni, ma la modernità, se noi ci poniamo il problema di qual è il primo passo verso la modernità, ci saranno coloro che ci rispondono. È lo scetticismo di Montaigne, lo scetticismo relativista, pluralista, che non crede nella verità di Montaigne, oppure è lo scetticismo di Cartesio. È lo scetticismo che trasforma il dubbio in dubbio metodico, in un dubbio che in qualche maniera ci faccia ricostruire l'edificio abimis profundis, cioè che ci renda non certe per come sono tutte le apparenze, tutto quello che ci circonda, ma per arrivare a delle idee chiare e distinte che ci possano in qualche maniera render conto poi da quel primo fondamento, ricostruire tutte le verità che sono le verità nelle quali crediamo, anche le verità della fisica e dell'astronomia. E qui c'è una considerazione, se posso ancora un minuto, da fare proprio relativamente a questo metodo di Bail, perché abbiamo visto che questo suo gioco dialettico poi chiama in causa anche delle idee incarnate, viventi. Cioè Bossuet, un grande pensatore dell'epoca, che la pensa esattamente in maniera contraria, che ci crede come che Dio sia provvidenza, che mandi dei segni in continuazione, che intervenga nel corso degli eventi mondani. E lui invece con questo atteggiamento distruttivo nega che si possa argomentare a favore di queste tesi e addirittura le mette in paradosso, perché queste tesi che dovrebbero in qualche modo difendere la religione rivelata, che dovrebbero far sì che tutti hanno degli argomenti in più per credere, vengono messe sul piano di quelle che sono gli argomenti per le credenze idolatriche, per le credenze superstiziose. Cioè a un certo punto, ecco questo è proprio il tour de force dialettico del pamphlet di Bail, che culmina in questa sentenza. Dio ha fatto una quantità di straordinari miracoli per rianimare quasi ovunque il culto languente degli idolatri. Cioè tutto quello che doveva servire, il miracolo, i misteri della fede interpretati in un certo modo, eccetera, ma anche questi segni della presenza divina nel susseguirsi degli eventi terreni, ecco vengono invece, sono esattamente gli stessi argomenti che motiverebbero un idolatra, uno che vive ancora nel mito ad accettare delle credenze e delle opinioni che ora il progresso e la conoscenza ci dicono che sono false. Alla fine, ce l'ha già accennato Mario Ricciardi, si parla addirittura di una comunità di atei ed è qui che questo scrittore è stato giudicato uno scrittore scomodo, uno scrittore... anche gli stessi illuministi l'hanno visto come un ateo, Voltaire lo vedeva come un ateo, però, ne parleremo dopo, Bail non è un ateo e lì sarà molto importante stabilire delle differenze, anche per capire come questi giudizi così, diciamo, appunto, da manuale, ma più che da manuale da bignami, che ci parlano di un illuminismo sensista, materialista, in senso stretto, diciamo volgare, chissà come mai l'aggettivo volgare è sempre legato a delle forme di materialismo, ma mai c'è uno spiritualismo volgare. Invece, in questo caso, Bail ci dimostra che c'è uno spiritualismo volgare ed è quello, appunto, che ci costringe in qualche maniera per la tradizione, per l'autorità che si dà agli antichi a credere in cose che non sono provate. Ebbene, c'è questa comunità di atei che lui ipotizza che possano vivere una vita morale e virtuosa esattamente come la dovrebbero vivere, anche se non la vivono, i cristiani del nostro tempo. Vedremo dopo che questa, però, è una sfida utopica, altro movimento di pensiero che era assolutamente congeniale agli illuministi. Questa comunità non esiste, non esisterà mai, è una cartina di tornasole per smontare ancora una volta dialetticamente le esaltazioni di una comunità virtuosa e morale che dovrebbe essere tale soltanto perché segue i precetti e i comandamenti della Chiesa e della religione rivelata. Comunque mi riservo di entrare nell'argomento religione dopo aver passato la palla, la parola all'amico Roberto. Roberto. Procedo? Sì, procedo. Ora, è sempre difficile intervenire dopo Alessandro Cagnini perché lui apre degli scenari con una grandezza, un'ampiezza che io so di non avere e che quindi mi mette timore. Per stare allora appunto su un punto piccolo piccolo mi concentro su un'idea e alcuni passi del testo di cui stiamo parlando, da cui stiamo prendendo spunto. L'idea è questa. Questo testo di Bale secondo me ha avuto l'influenza che ha avuto, il peso, il valore e anche appunto il valore provocatorio, perché mette sul tappeto in maniera brillantissima, con una penna felicissima, perché scrive veramente in maniera avvincente e con quel brio che è denotato dall'ironia di fondo, un tema densissimo che è quello del rapporto fra natura e storia. Vale a dire, in quel momento storico dal punto di vista della storia e della cultura, cioè soprattutto prima dell'illuminismo, nel passaggio tra barocco e illuminismo, quando fra i lampi delle guerre di religione, della riforma e della contro riforma, si giocava una partita in Europa drammatica e per certi aspetti tragica per la consapevolezza della caduta, della ingenua forse presupposizione che la visione cristiana riunisse i popoli europei quanto meno sotto un'unica interpretazione della scrittura. Ecco, già questo viene meno ed è una consapevolezza distrosa. In più, questo si lega a lotte politiche che non hanno ovviamente solo un movente religioso, anzi per lo più hanno un movente rigorosamente e strettamente politico, ma che usano la religione per fare interessi politici e si scopre, l'Europa scopre, privata di questa presunta innocenza precedente, che l'elemento religioso può essere utilizzato ora dagli uni ora dagli altri appunto per imporre o per proporsi come legittimato nel dominare un'area, un periodo, un momento storico. E perché allora natura e storia diventa cruciale? Perché diventa sempre più chiaro che la storia la fanno gli uomini. E cioè che quel che si trova nella natura pensata fino a quel momento è anche in quel momento pensata come creazione e quindi come presenza viva e visibile di un ordine divino pensato nella mente di Dio, di un Dio provvidente, l'idea di provvidenza è esattamente l'idea di Dio nella storia, di un Dio provvidente, onnisciente e onnipresente nella storia, dalla presenza del suo figlio fatto carne alla presenza dei miracoli e dei signa, dei signa dei. Allora se la natura deve dirci, è il luogo in cui appare il disegno di Dio, oggi diremmo il disegno intelligente, è quale miglior candidato della cometa per essere segno di quel che Dio ci sta dicendo. E il senso della cometa, ecco il senso della cometa dovrà essere interpretato alla luce di quello che accade a seguito dell'apparire della cometa. E chissà perché, per una strana perversione del giro di interpretazioni, il segno della cometa che nel racconto biblico è un segno fausto, no? Che segnala la presenza del Salvatore e che i magi rincorrono al fine di trovare il luogo dove il Salvatore ha preso carne. Invece nella coscienza popolare, e Bello documenta benissimo, per effetto in realtà dell'interpretazione pagana del segno della cometa, diventa un segno in fausto. Diventa un segno in cui Dio attraverso la natura ci dice che stanno per accadere grandi sconvolgimenti. E che questi sconvolgimenti travolgeranno gli uomini, travolgeranno in realtà anche appunto le terre, i regni e la vita di ciascuno di noi. Ora, Bello qui fa due operazioni. La prima è quella che cercherò di leggere fra un attimo, quando enuncerò, leggerò la ragione che lui dice essere la ragione decisiva contro la tesi che le comete annuncino sventura e che di esse si debba tenere conto quando si prendono decisioni politiche o anche personali. E quindi uno è quello di staccare, scollegare la storia dalla natura e i fatti dalle interpretazioni. L'altro è quello che è già stato un po' accennato da Alessandro Pagnini, cioè di mostrare che queste interpretazioni e ciò che su di esse si basa nella vita sociale, cioè l'azione, le scelte, quindi la vita morale e la vita politica, sono in realtà frutto di dinamiche del tutto umane e di scelte del tutto umane. E qui si vede un certo modo che Bello ha di interpretare lo scetticismo come suo retroterra storico. Mentre Alessandro parlava, sono andato a riprendere che non era un passo che pensavo di citare ma me l'hai richiamato alla mente, questo è un pezzettino piccolissimo, penso che sia meno di un ventesimo, dell'altra grande opera di Pierre Bale, che qui è in introduzione italiana solo molto molto parziale, sono alcune voci del dizionario storico critico. Opera che precorre le enciclopedie, che è il modello per gli enciclopedisti e che ha voci quasi monografiche, in cui tra l'altro è interessantissimo che la parte più cospicua delle voci non sono le voci di dizionario, che sono abbastanza brevi, ma le note sono enormi, non smettono mai. Allora, la voce Pierrone dice, Pierrone, prego solo alcune frasi, per tutta la sua vita cercò dunque la verità, ma nel contempo si procurò sempre, Pierrone è naturalmente il fondatore della scuola scettica, per tutta la vita si procurò sempre argomenti per non dovere ammettere di averla trovata, che è un modo curioso di presentare la cosa. Cioè non che la verità non ci sia, ma è lui a Perrone come astuto nel non volersi mai legare a una verità, nel non voler ammettere che c'è una verità. E appunto in questo modo il pirronismo diventa quell'arte di disputare su tutto, senza prendere mai altro partito, se non quello di sospendere il proprio giudizio, che è un modo abbastanza più tradizionale di presentare la cosa. Tuttavia, poco dopo, Bale dice, va beh, racconta l'appologo, no? Per cui si dice che Pierrone non abbia fatto alcuna scelta e che davanti a un carro o a un precipizio non si sarebbe deciso a fare un passo indietro o di lato, tanto che gli amici che lo accompagnavano gli avrebbero più volte salvata la vita, visto che non sa decidere che cosa sia vero, no? E' assolutamente improbabile, dice Bale, che Pierrone fosse pazzo fino a tal punto. Non c'è invece alcun dubbio che secondo lui l'onore e l'infamia delle azioni, la loro giustizia e ingiustizia dipendono unicamente dalle leggi umane e dal costume. Questa significa quasi giuspositivista, no? Del diritto e della morale. Perché? Perché appunto per Bale lo scetticismo significa questo, riconoscere che il territorio dell'esistenza umana è un territorio in cui i moventi, le dinamiche e quindi anche le decisioni fanno capo a dinamiche semplicemente umane. E che quando l'uomo non ha altro a cui appellarsi per prendere la decisione che non gli aruspici, non i signa, non le comete, ma se stesso, si apre non l'anomia, non appunto l'assenza di leggi, l'assenza di verità. Al contrario, si apre la consapevolezza che le leggi sono frutto del costume e della deliberazione umana, che la Repubblica delle lettere, la Repubblica degli Atei Morali, è una possibilità perché è iscritta nel fatto che le persone, gli esseri umani, sono in qualche modo costretti, oggi nel novecento con Sarta avremmo detto costretti ad essere liberi, cioè costretti ad attivare la propria libertà per decidere come vivere insieme, invece di farsi guidare da presunti segni o da verità troppo certe, troppo consolidate, alle quali semplicemente si obbedisce, che significa in realtà essere conformi a una legge ricevuta e niente affatto liberi in questo senso. Allora, qui sotto, al di là della fondazione dell'etica e della politica, tema che poi in quegli anni è ovviamente centrale, lo shock era già stato messo sul tavolo a metà del seicento da Hobbes, no? Quando appunto impone, qui parlo di fronte a Ricciardi, Mario Pichardo politico, però appunto quando il punto della politica diventa interamente il conferimento di autorità che i partecipanti a un contratto danno all'autorità del sovrano, no? E che quindi non porta in campo Dio in alcun modo nella fondazione della comunità politica. Ma qui c'è qualcosa di più interessante, secondo me, perché il movente non è la decisione, il contratto, qui ciò a cui Bale allude e non sviluppa naturalmente, è l'eventualità che invece sia l'esercizio di una consapevolezza critica, che mi sembra questa la radice illuminista, Bale, a muovere, come dire, a porre le condizioni perché gli uomini si decidano finalmente a guardare in faccia i fatti e a confrontarsi su cosa fare in questa condizione omane nella quale ci troviamo. Allora, natura e storia che poi è un tema fantasticamente denso e che diventa il cuore di tutta la filosofia della storia, della modernità, tanto che appunto da questi accenni, da questo sviluppo di prima modernità la cosa torna in tantissimi autori, in Kant e dirò qualcosa tra poco, naturalmente in Hegel, lo ritroviamo poi nella filosofia della storia del Novecento ed è il tema centrale, per esempio, per citare un'opera famosa, forse anche un po' troppo, come dire, osannata per quello che vale, cioè il tramonto dell'Occidente di Spengler, dove la distinzione di natura e storia è il cardine della sua visione apocalittica, tra l'altro, del destino dell'Occidente. Ora, questo tema mi sembra che qui sia declinato in maniera intelligente e sottile. La quinta ragione che Bale adduce contro i presagi delle comete è questa. Non si tratta di sapere, non si tratta più di sapere se è possibile che le comete altino i nostri elementi o se esse, come cause o come segni, si mostrino tutte le volte che gli uomini devono subire grandi calamità. Si tratta di giustificare il fatto stesso che vi viene contestato e che costituisce ormai la vostra unica risorsa, cioè se veramente accade che dopo l'apparire di una cometa succedano grandi tragedie o piuttosto succeda altro, nessuna tragedia o addirittura periodi di grande floridezza e felicità. E lui lo fa da storico qui, cioè nei paragrafi successivi lui fa un confronto fra i periodi che sono seguiti all'apparire di due importanti comete. Gli anni seguiti le comete del 1665 e quelli precedenti alla cometa del 1652. Quindi va a ritroso. E ve la riassumo perché naturalmente poi da qui si parte una disamina da storico erudito che dura molte pagine, vi dice qui ci sono in questo periodo, io vedo ci sono solo quattro guerre che sono capitate in questo periodo, periodo di mezzo. Quella fra turchi e veneziani, quella fra spagnoli e portoghesi, quella fra Olanda e l'Inghilterra e infine la campagna dell'Ille. Le prime due, cominciate entrambe molto tempo prima che le comete apparissero, si conclusero felicemente proprio quando esse apparvero. Le altre due si conclusero subito dopo che erano scoppiate. E ciò prova che le influenze delle due comete in questione erano molto più favorevoli alla pace che alla guerra, se le guerre sono durate poco. Dal momento che hanno posto termine a tutte le guerre scopiate senza la loro partecipazione, mentre hanno rapidamente soffocato quelle scopiate nel periodo della loro influenza. E i paragrafi successivi sono un racconto di come sono andate queste guerre. Allora, l'argomento è più semplice, cioè Payle dice guardiamo i fatti. E guardiamo che i fatti ci dicono molto di più di ciò che realmente muove la storia. Perché poi dentro a questo racconto delle guerre, quando lui dice beh allora ma non è stata la cometa né a far cominciare né a far finire la guerra. Ma allora cos'è stato? E per lui è molto semplice. Gli interessi, gli interessi politici, gli interessi dinastici, la tensione che si creava fra le dinastie, fra le case regnanti per il possesso di quella o quell'altra zona del territorio e così via. E questo è il motore della storia. E questo motore della storia non ha niente a che fare con la natura. Non ha niente a che fare con la natura. E se noi cerchiamo di pretendere, qui poi si apre tutta quell'altra parte che però appunto ne ha già parlato Alessandro, se noi pensiamo che Dio ci voglia parlare nella storia, attraverso segni naturali, noi ci mettiamo in una serie di contraddizioni che sfiorano il ridicolo. Perché qui lui è maestro, siccome lui lavora sempre sotto ventite spoglie, no? Anche tutta l'opera, qui lui la scrive come una lettera a un dottore della Sorbona, il quale dice, pubblicando questa lettera, io la pubblico perché costui me l'ha mandata, ma ho chiesto a costui di parlare come se fosse un cattolico. E lui scrive da cattolico e difende la santa religione da una perversione che nella coscienza popolare si è prodotta. Quella che appunto penserebbe che Dio, per parlare agli uomini, debba utilizzare mezzi che farebbero la felicità degli idolatri, o degli idolatri, adesso sull'accenti con un toscano, non mi metto a discutere, per cui... Cioè che per sostenere il movimento provvidenziale della storia Dio si debba abbassare, utilizzare mezzucci, quale appunto la credulità popolare, la superstizione legata agli aruspici e a questa visione della natura del cielo, come segno del senso e della direzione che la storia deve prendere perché noi ci prendiamo paura a causa di questi segni. E dice, ma se Dio deve passarsi a questo, vuol dire che veramente è una bassa religione quella che si muove in queste modalità. E non è così, non può essere così. Qui addirittura Bale fa una teodicea rovescio. Dice che giusto e buono, non può operare con mezzi tanto assurdi. Se vuole intervenire nella storia, interverrà in ben altro modo. E Bale però non lo dice come interviene nella storia, in altro modo. Si ferma a smontare le tesi dei superstiziosi che confondono i religiosi, mostrando che così qualche volta legione e superstizione si sono un po' avvicinate, un po' troppo. Cosa succede qui? Succede, a mio modo di vedere, qui appunto faccio solo un passettino avanti che il tema di come collegare la storia come sequenza di eventi umani e quindi legate a dinamiche umane e anche alle scelte umane ha due problemi. Uno è ancora il problema del rapporto con la natura. Cioè che rapporto c'è fra una natura che si muove secondo leggi che io posso scrivere e ricostruire con l'osservazione more scientifico, prima ancora che geometrico. Cioè osservando. Se osservo le regolarità della natura scrivo le leggi della fisica. Se osservo le regolarità della storia che cosa trovo? Le leggi della storia. Questo è un primo problema. Queste leggi sono deterministiche o chiamano in causa la libertà. E questo è il secondo punto. Se la libertà è nell'umano che ruolo ha la libertà nella storia? Non più soltanto in rapporto a un piano provvidenziale ma in rapporto anche a quelle leggi deterministiche della fisica che dovrebbero essere le leggi anche della storia o dovrebbero avere qualche parentela con le leggi della storia. E' qui che l'illuminismo secondo me ha un grossissimo problema è che l'illuminismo cerca di affrontare e risolvere prima di tutto studiando la storia. Fra i pensatori illuministi vi sono due dei più importanti pensatori illuministi sono due storici oltre che due filosofi Voltaire e Hume che sono celebri nel loro tempo soprattutto per le loro opere storiche per la ricostruzione storica dei paesi in cui vivono della Francia e dell'Inghilterra. Quindi innanzitutto i fatti. E poi questa ricostruzione è infatti ricostruita per Hume soprattutto meno per Voltaire alle dinamiche osservabili delle relazioni umane che ci danno delle regolarità. Allora a questo punto quando arriva Kant sulla scorta anche della lettura di Hume di Voltaire e di tutto il fermento illuminista e essendo Kant il pensatore che non ci sta a togliere la libertà dal tessuto della storia umana e Kant nella idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica appunto ha questi due problemi. Uno se la natura ancora può essere letta come un ordine e quindi ricollegarsi se non proprio alla provvidenza parola che lui cerca di non usare poi qualche volta gli scappa ma cerca di non usarla perché l'ordine è un ordine razionale pensato è un ordine quindi Dio qualche modo resta lì sullo sfondo e bisogna cercare di chiamarlo in causa bisogna cercare di evitare di chiamarlo in casa ma sembra inevitabile farlo. Dall'altra parte c'è l'altro ordine l'ordine appunto che per Kant è fondativo della morale e della politica l'ordine della libertà l'ordine della libertà crea e che ruolo ha questo nella storia cioè la storia dipende da noi o no detto brutalmente il destino dipende da noi o no cambia se noi creiamo il regno dei fini o no lo possiamo creare o lo crea qualcun altro la natura Dio la provvidenza o si crea da sé per qualche meccanismo deterministico la storia di Kant è molto complessa nella sua schematicità e mi pare adesso sarebbe lungo spiegarla nei dettagli ma mi pare che colga un elemento dello spirito di Bale cerchiamo nella storia delle regolarità facciamolo e Kant parte da questo ci sono delle regolarità queste regolarità se le guardiamo nel lungo periodo dice Kant mostrano che la tendenza della della verità umana dell'esistenza degli esseri umani associati cioè la storia come la conosciamo noi appunto le res geste mostrano la tensione verso un dispiegamento di alcune caratteristiche dell'umano una tensione che può essere smentita ad ogni passo questa tensione sarebbe la tensione verso la possibilità di una società civile fondata sul diritto cosmopolitica in cui ogni individuo è rispettato nella sua umanità ma dice Kant questa è una possibilità scritta nella storia che la natura diciamo spinge muove fa accadere anche al di là delle intenzioni degli individui delle persone degli esseri umani usando quella molla che è l'antagonismo dice Kant che poi è il conflitto per cui anche le migliori intenzioni finiscono per generare conflitti e disastri e ciò nonostante ciò nonostante il movimento che si genera è un movimento in cui le potenzialità dell'umano a capire a muoversi passo passo verso una direzione migliore emergono ma Kant è molto attento nel dire badate che questa immersione di consapevolezza per esempio l'idea di diritti l'idea di autonomia di libertà sono tutte conquiste che possono riprecipitare del buio in ogni momento nella storia a differenza di quanto accadrà con i grandi sistemi di filosofia storia ottocenteschi sia quello positivista sia quello idealista storicista dove il destino è sicuro le magnifiche sorti progressive sono garantite perché lo spirito assoluto non potrà che essere certo di se stesso e autotrasparente in Hegel dove il trionfo delle classi che hanno il diritto alla rivolta sarà certo e sicuro allora in Kant questo è precedente e questa certezza non c'è affatto c'è il fatto che la possibilità che la natura ha in ogni ente di dispiegare la propria natura quindi anche nell'uomo se l'uomo è un animale nazionale la sua propria natura si dovrà dispiegare prima o poi e non lo farà nel singolo lo farà nella specie solo che questa è una possibilità cioè qualcosa che dipende pur sempre dal fatto che gli uomini davvero siano all'altezza di ciò che sono davvero si mostrino nei fatti capaci di attuare la repubblica nella quale potrebbero ben vivere e questo potrebbe appunto ripiombare nell'oscurità da un momento all'altro in ogni momento della storia questa visione critica della storia che non è provvidenzialista ma riconosce una tensione al meglio non è progressista in senso igienuo cioè la certezza del progresso è una concessione della storia che io ritengo sia fondamentale che l'eliminismo ci ha consegnato che noi non dobbiamo dimenticare soprattutto in tempi in cui oggi oggi ormai non è quasi più di moda ma si celebrava la fine della storia la fine del soggetto la fine delle ideologie la fine della politica la fine dell'arte la morte di tutto cioè tutto quella costellazione che si può chiamare grossomodo postmoderno ecco allora questa cosa qui è finita per conto mio è morto il postmoderno lo dico sempre perché non si dice mai abbastanza ma il punto è che siamo per questo ripiombati nella modernità cioè nel problema di come pensare è la storia in avanti da qui che è un problema tutt'altro che facile perché i facili millenarismi secolarizzati non ci sono più possibili non è più possibile per noi così illuderci o affidarci alla promessa storico storico-politica di un'ideologia come lo abbiamo fatto finora dovremmo inventarci qualche cos'altro ma non possiamo stare senza una storia cioè la storia nel senso del futuro naturalmente e non del passato quindi questo secondo me grosso modo è la verità che parte da Bale attraversa Kant e lì un po' si ferma perché prevalgono quelle visioni della storia del rapporto natura-storia in cui la storia dello spirito si divora la natura o la natura interpretata scientificamente Comte il positivismo si divora la storia nei meccanismi e tutta questa scissione secondo me ce la lasciamo fortunatamente alle spalle ma abbiamo da recuperare il problema ecco il problema del rapporto natura-storia dove un buon punto di partenza è quello di riconoscere che la storia la fanno gli esseri umani e che su questo abbiamo molto da lavorare e non da affidarci alle comete grazie uno uno dei grandi dei grandi privilegi che si ha quando si fanno cose come quella che ho fatto io per la casa della cultura è proprio questo tu hai una cosa che ti interessa però ti rendi conto che le tue capacità sono limitate scegli due amici molto intelligenti li inviti a parlare di quella cosa e ti dicono un sacco di cose interessanti e questo ti aiuta insomma ad andare avanti due o tre osservazioni velocissime credo che si sia capito allora i due relatori ci hanno detto all'inizio noi non siamo degli esperti di 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 realtà devo dire che insomma abbiamo sentito delle cose sì lo dirò tra un attimo perché voglio segnalare una cosa e insomma abbiamo sentito un sacco di cose interessanti innanzitutto su Pierre Bile devo dire che è un autore appunto molto studiato dagli storici ma non propriamente un autore che incontrate di frequente nelle riviste di filosofia eppure insomma abbiamo capito perché è un autore che ha avuto così tanta influenza viene fuori in maniera molto forte quello che sarà un filo conduttore di tutti i nostri incontri che è il tema del progresso e anche però il tema dell'esaltazione ingenua del progresso mentre ascoltavo Sandro mi veniva in mente un po' una battuta sarà perché Sandro ha questo accento fiorentino anche se lui non è nato a Firenze molto forte però mi veniva un po' da pensare che il nuovismo non è una novità nel senso che in qualche modo no lo studio della storia è interessante anche per questo perché ci sono delle stagioni nelle quali improvvisamente tutto ciò che è nuovo diventa attraente e poi però le cose vanno avanti in modi imprevisti trovo trovo anche trovo anche molto interessante credo che ci ritorneremo adesso ci ritorneranno adesso entrambi i relatori questo riferimento diciamo così a come questi temi vengono poi ripresi da un autore come Kant e io tra l'altro mi fa molto piacere segnalarvi una cosa Roberto Mordacci lui non ve l'ha fatta l'ha tenuta nascosta perché è un ragazzo modesto però ha recentemente curato questa edizione italiana proprio dell'idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica che è devo dire una delle opere secondo me più leggibili di Kant ecco per quelli di voi che sono stati terrorizzati da Kant al liceo e hanno giurato di non leggerlo mai più nella vita provate a prendere questo libretto che ha una splendida appunto ha una splendida introduzione di Roberto dove alcuni dei temi che lui ha toccato vengono sviluppati ma scoprirete anche un Kant diverso diciamo un Kant appunto che dove il senso appunto della contingenza è molto più forte che ci dice un sacco di cose che ci riguardano molto da vicino e in particolar modo una che è stata toccata da Roberto ma in fondo era anche questo tema diciamo dell'interpretazione della storia del modo in cui noi dobbiamo leggere la storia e io sono rimasto molto colpito dal fatto che da qualche anno in Italia non c'è ancora un eco di questa tendenza però nel mondo di lingua inglese sono alcuni anni che vengono pubblicati e anche con grande successo di pubblico dei libri dei libri di storia che però sono dei libri di storia che fanno venire in mente i grandi classici dell'illuminismo diciamo della storia illuministica perché sono innanzitutto molto legati al tema delle cause dell'ascesa e del declino non so libri come per esempio Civilization di Niall Ferguson oppure i libri di Ian Morris su perché l'Occidente ha prevalso il libro di Brandon Sims sull'Europa questi sono storici storici in alcuni casi anche con grande prestigio accademico che insegnano a Cambridge chi a Harvard e così via che però in qualche modo fanno una storia che ricorda la storia dell'illuminismo perché è una storia filosofica ed è una storia che appunto si chiede ma dove stiamo andando cioè che cosa dove ci porteranno le vicende cui abbiamo assistito negli ultimi 100 200 300 anni ed è molto interessante secondo me non tanto il fatto che dei professori sentano il bisogno di scrivere libri di questo genere perché trovate un argomento strano e troverete sempre un professore disposto a scriverci un libro su ma il fatto è che questi sono dei best seller il che vuol dire qualcosa sono libri recensiti dall'economist dal financial times cioè in qualche modo le elite dei paesi occidentali si stanno facendo domande di questo tipo e secondo me questo è un come dire è un tema sul quale vale la pena di riflettere io ridarei la parola a Sandro Pagnini a questo punto per un secondo giro la riprendo brevemente perché il tempo ne è trascorso parecchio e quindi forse vi siete anche un po' stancati di ascoltare però mi corre l'obbligo ecco qui il tic il tic dello storico è assolutamente irrefrenabile sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Mordacci e con l'immagine che ha dato lui dell'illuminismo e dell'uscita dalla minorità che sta in questo nodo natura storia in maniera assolutamente centrale però tornando a Bail non possiamo fare a meno di parlare di un'altra grande figura del pensiero del seicento che in qualche maniera è o come sottofondo oppure come equivoco perché poi di fatto questo scrittore sospetto come lo qualificava Voltaire che è il filosofo di Rotterdam cioè Pierre Bail non si sa bene se è un ateo o no ma perché non si sa bene se è un ateo o no come vi dicevo quel famoso esempio di una comunità di atei che si comporta virtuosamente e moralmente come si potrebbe comportare una comunità di cristiani non è un panegirico a favore dell'ateismo ma è un panegirico a favore della tolleranza e questo è l'altro termine che poi Kant sublimerà nella sua filosofia ma questi equivoci da dove vengono Voltaire citando Virgilio a un certo punto ci ha detto tutti voi siete bravi a togliere di torno i preti avete sempre ragione contro i preti ma non confuterete mai il principio secondo cui mens agitat molem cioè lo spirito vivifica la materia dicendo queste cose Voltaire e qui si sta tornando al tema della della religione e dell'ateismo mette di fronte le due posizioni canoniche dell'illuminismo cioè l'ateismo da una parte e la religione naturale dall'altra d'accordo tutte e due nel dar calci ai preti e nel criticare la la chiesa e il potere della della chiesa nel mondo ma poi però divisi sul fatto se ci sia un principio un su un principio intelligente dell'universo che sia fondamento di una religione naturale anche qui bisognerebbe sapere che religione naturale alla Voltaire sarebbe un insieme di principi morali di norme morali che appunto si ispirano alla ragione e siccome la ragione è naturale ecco che questa è una religione naturale per Ium sarebbe un atteggiamento naturale no la religione naturale sarebbe semplicemente la religione che non ha bisogno di rivelazione per essere tale poi Ium ci aggiungerà quel magistrale tocco da filosofo che però questa sarà una posizione che la filosofia non potrà mai giustificare e anche quindi vedete tutte le sfaccettature dello scetticismo che sono in gioco nell'illuminismo fino al punto di fare di uno dei grandi vessilliferi dell'illuminismo che è Ium un irrazionalista perché di fatto Ium è il più grande irrazionalista della storia del pensiero occidentale ma che cosa vuol dire questo rifiutarsi da parte dell'ateismo di considerare il mondo come l'effetto di una mente intelligente di una mente che crea dal nulla che organizza che interviene che è providenziale eccetera che modifica il corso della storia e qui il simbolo dell'ateismo niente meno diventa spinosa un filosofo che ha pubblicato la sua etica da pochi anni prima che esca il che escano i pensieri diversi sulla cometa di Bail e che però aveva fondato tutta la sua filosofia su Dio ecco dove ci sono gli equivoci sull'ateismo sull'ateismo del settecento io prima di dirvi brevemente che consiste questo questo equivoco vi dico che c'è uno storico della filosofia che si chiama Jonathan Nadler americano molto fortunato sicuramente al di là dei suoi meriti ma fortunato appunto perché sicuramente butta dei sassi nello stagno e fa e fa schizzare parecchia acqua che ha scritto ecco l'unico libro non tradotto li trovate tutti tradotti da Einaudi l'unico libro non tradotto è quello più importante Radical Enlightenment illuminismo radicale secondo questo storico revisionista la storia dell'illuminismo si identifica con la storia dello spinozismo ve lo dico proprio perché chiaramente colleghi storici della filosofia hanno avuto le reazioni anche più isteriche di fronte a tutto questo però ci ricordava poco fa Mordacci con un termine assolutamente pertinente che quella di Bail è un'anti teodicea che quella di Bail è proprio il voler capovolgere e anche in questo scimmiottare il linguaggio e l'argomentazione degli apologisti per ridurre ad assurdo oppure per capovolgere senza arrivare a una conclusione tutte le argomentazioni cioè crolla la teodicea prima ancora che ci sia la grande teodicea di Leibniz però questo riferimento la teodicea è quella parte della teologia e della filosofia e della metafisica che si sono occupati del problema del male nel mondo perché c'è il male se questo Dio è benevolente se questo Dio è onnisciente se questo Dio può tutto perché c'è il male c'è il male nella storia ma c'è anche il male nell'individuo c'è il male nel soggetto c'è l'istinto a far male nel soggetto perché tutto questo ebbene la soluzione di Spinoza è una soluzione assolutamente importante perché come vi dicevo Bail cresce come tutti su Cartesio sui cartesiani sulla filosofia della natura e anche su questa metafisica dualista di Cartesio la metafisica dello spirito e del corpo della res cogitans della mens come dice Voltaire che significa spirito appunto e del corpo che sono due res completamente diverse una che obbedisce alle leggi della fisica e della meccanica l'altra invece è pura libertà è un qualche cosa che non è paragonabile come sostanza alla sostanza di cui è fatta la materia ma il dio di Spinoza è un dio che si identifica con l'ordine logico-razionale del mondo non è un dio creatore non è un dio trascendente non è un dio che dà la spinta neanche all'universo e tantomeno vi interviene non è un dio che ascolta le preghiere non è un dio che ci aiuta a scegliere e non è un dio che ci si può rappresentare antropomorficamente come un uomo intelligente come un uomo libero non è né libero né intelligente il dio guardate dire questo per uno che invece ha soltanto nelle orecchie la terminologia canonica della della predicazione religiosa dice questo è un blasfema questo è ma questo è un grande teologo forse il più grande teologo che sia mai esistito nella storia dell'occidente ed è un cristiano è quello che dà l'occasione perché Bayer l'aveva già letto nonostante fosse soltanto di cinque anni prima l'etica di Spinosa poi nel Dictionnaire traviserà molte cose di Spinosa lì a ragione Volterre però sarà molto spinoziano in questo il suo è un puro fideismo cioè non è ateismo il suo però è un fideismo che non accetta che questa fede venga giustificata nella maniera in cui è stata tradizionalmente giustificata ma proprio perché dietro di lui c'era una grande teologia un'immensa teologia ecco questo materialismo questo illuminismo che viene in genere appunto riportato spicciolato in sensismo materialismo un razionalismo ingenuo ecco questa era la tesi sostanzialmente di Hegel perché Hegel dice delle cose molto corrette quando parla nella fenomenologia dello spirito di questo momento dello spirito che è un momento transeunte cioè un momento come tutti i momenti dello spirito che avrà una sintesi avrà un superamento quindi un momento ma non nega che ci sia una necessità nella figura nel fatto che lo spirito a cavallo poi cavalchi anche il settecento e questo e questo tipo di idee però indubbiamente dice ma l'illuminismo ha avuto un gioco facile perché da una parte inventa un'astrazione la pura intellezione e dall'altra parte la confronta con la fede ingenua con quello che è carne passione sentimento e non può che perdere la fede ma che cos'è che ha vinto il prezzo di questa di questa vittoria è la rinuncia alla trascendenza ci dice ci dice Hegel e quindi ecco perché la parzialità e il fatto che questo illuminismo debba essere in qualche maniera superato e se guardate bene quello che è venuto dopo Hegel risente in maniera assolutamente diretta di questo modo di vedere l'illuminismo perché si dicono illuministi anche Feuerbach e il giovane Marx per esempio come parlano di religione Feuerbach parla di autoalienazione dell'uomo che deve essere in qualche maniera appunto superata con la critica con la ragione il giovane Marx lo sapete tutti parla della religione come oppio dei popoli come illusione di felicità da contrapporre a una felicità reale che viene promessa da un altro tipo di filosofia una filosofia della prassi in quel caso ma ci diranno i manoscritti economico-filosofici che la critica alla religione è l'inizio di ogni altra critica questo è ma proprio nel senso appunto di una di una critica alla religione su basi materialistiche di quel tipo di materialismo che di fronte al quale ci ha messo ci ha messo Hegel probabilmente forse l'interprete più corretto di quello che sta succedendo nella nella storia della fede da da Baile in poi ce l'ha detto Max Weber il quale parla di razionalizzazione occidentale parla di destino della nostra epoca che è un destino di intellettualizzazione di disincanto di disincantamento della natura come lo chiama lui che costringe a ritirarsi la fede nell'intimo questo movimento di razionalizzazione e di rischiaramento è una luce che abbaglia e costringe la religione a diventare un fatto privato addirittura Max Weber cita John Stuart Mill che parla di politeismo moderno perché il fatto che ognuno abbia la sua fede è il portato di questo sconvolgente fatto metafisico che ci sia una fede che viene concepita come qualche cosa che non ha niente a che vedere con la rivelazione che non ha niente a che vedere con i misteri della fede che sono appunto la creazione la reincarnazione la resurrezione non ha niente a che fare con questo è un fatto interiore e questo è il questo rifugiarsi nell'oltremondano di una vita mistica sostanzialmente è la prospettiva che secondo me più correttamente Max Weber vede nascere dall'illuminismo dallo spinozismo dal fatto da questo tipo particolare di materialismo che ripeto in maniera probabilmente un po' eccessiva è sin troppo enfatica ma questo Jonathan Nadler mette alla base di tutto l'illuminismo così come invece è stato interpretato nelle maniere più diverse ma seguendo sempre il filone non metafisico teologico perché è quasi paradossale che sia la metafisica e la teologia che porta all'illuminismo paradossale per modo di dire perché le religioni rivelate giudaismo e cristianesimo erano degli illuminismi contro le mitologie e le idolatrie diciamo così senza pronunciare i protagonisti delle idolatrie eccetera erano degli illuminismi proponevano una filosofia proponevano una visione del mondo ma erano antireligiose le prime religioni contro il mito avevano la stessa funzione e guardate bene che tutta qui ora mi taccio perché si fa tardi ma tutta la storia della teologia occidentale avrei voluto dirvi qualche cosa su questo libro di Ferrone ma forse accenderà a qualcosa Mordacci lo strano illuminismo di Papa Ratzinger è un nostro collega che ha scritto un libro su questa cristianizzazione dell'illuminismo che all'inizio degli anni 2000 ha compiuto Ratzinger ma sicuramente falsando molti di questi punti di cui noi parliamo però ripeto è tardi eventualmente risponderò a qualche domanda un torino complesso io volevo innanzitutto richiamare alcune cose che ha detto Mario Ricciardi cioè è un periodo quello illuminista in cui fioriscono le storie ed è significativo che questo accada anche oggi nell'illuminismo appunto le storie che fioriscono sono quelle curiosamente spesso quelle che riguardano la caduta la nascita la gloria e la caduta dell'impero romano come punto di passaggio no Gibbon Burke e Montesquieu per fare i tre nomi più importanti no e e oggi e cos'era quello cos'era l'impero romano la sua ascesa e la sua caduta le cause di questa caduta era il segno di un passaggio d'epoca evidente evidentissimo di cui in cui si cercava un insegnamento sul passaggio d'epoca presente cioè sul passaggio d'epoca di quel momento no se è caduto l'impero romano che cosa sta accadendo adesso intanto e come come viene una grande caduta di questo tipo e a cosa apre quale quali forze si muovono dentro che oggi ci si ritrovi in una situazione molto simile e lo testimoniano quei libri che tu citavi a cui io aggiungerei un solo libro che non è esattamente di uno storico ma di una persona con grandissima competenza storica perché oltre che a scrivere di storia ha fatto la storia ed è il libro Ordine Mondiale di Harry Gissinger che è un libro di storia di storia mondiale scritto con appunto la pena di una grande capacità di disposizione di sintesi ma di qualcuno che conosce alcune delle storie di cui parla da dentro dall'interno e su tutto lo scacchiere mondiale e ci dice esattamente cioè tra l'altro è un po' sconfortante perché si arriva alla fine con la netta impressione che lui dica non ci ho capito niente cioè alla fine mi ci sono mosso pure io dentro però abbiamo sbagliato quasi tutto noi americani lui dice insomma siccome su alcune cose è stato lui a decidere lui stesso ammette qualche errore qualche sconfitta e questo per me significa che appunto il tema di ripensare la storia oggi significa ripensare l'ordine mondiale significa ripensare esattamente gli equilibri geopolitici che finora abbiamo dato per scontati entro una comoda divisione in due blocchi che in realtà rispecchiava fino a un certo punto la realtà ovviamente questo dall'89 in avanti non ha più molto senso non si sa più se ci sia un blocco unico ma non è vero o invece una serie di punti insomma le disamine sono le più varie non sarò certo io qui richiamarle tutte la situazione è di un grande caos sotto il cielo e abbiamo innanzitutto bisogno di interpretare questo caos e più che di dirigerlo o di pretendere di avere la possibilità di dirigerlo di capire le forze che si muovono dentro adesso per non restare vittima delle contraddizioni che si muovono dentro adesso cioè se noi cadiamo nella trappola la trappola per esempio che ci tende il terrorismo il terrorismo integralista è una trappola evidentissima ma se noi per reazione istintiva cadiamo in questa trappola della reazione immediata violenta militare boots on the ground eccetera eccetera ovviamente cadiamo nella trappola della storia è chiaro che questo quindi lì ci serve un grandissimo illuminismo l'illuminismo nel comprendere le vere forze storiche soggiacenti per esempio c'è una guerra su Niti City che noi adesso finalmente abbiamo capito grazie al fatto che appunto l'Arabia Saudita ha deciso che bisognava tagliare la testa a un certo numero di sciiti perché terroristi cioè noi che avevamo pensato no ma i terroristi sono gli altri no? cominciamo a capire che lì c'è un problema di guerre di religione fra islamici anche qui l'analogia con l'Europa dovrebbe dirci qualche cosa speriamo magari che questo porti qualcosa non dirò niente su questo dirò che il tema di religione è cruciale nell'illuminismo come nel tempo contemporaneo e non so se io non ho letto il libro di Nadler e andrò a leggermelo a questo punto mi sembra è Israele scusami ho sbagliato è Israele Radical Enlightenment comunque Nadler è un israeliano per cui anche anche libri sull'illuminismo di Nadler parlano di illuminismo radicale di Israele ok non ho letto nessuno di questi due libri di questi due autori non so se lo spinozismo sia il punto cruciale certamente per Bayle è un punto cruciale certamente il punto cruciale della modernità è il rapporto immanenza trascendenza questo è che però io esiterei a interpretare nella forma per cui nella diciamo in una prospettiva illuministica l'obiettivo è fare a meno della trascendenza abolirla e relegarla o in una dimensione di superstizione quindi di non conoscenza o nell'intimo Weber perché in realtà noi abbiamo scoperto in questi anni la potenza politica sociale morale della religione delle religioni e ci siamo resi conto che è inevitabile che le religioni giochino un ruolo sulla scena della storia imponente imponente e e lo stesso appunto come anche tu ricordavi i pensatori illuministi raramente erano proprio atei no? avevano forme di deismo più o meno culto più o meno articolato o addirittura erano cristiani ma senza troppo volerlo far pesare Kant era uno di questi no? cioè dice vabbè io non tiro mai in ballo Dio veramente però però sono cristiano e c'è questo uno dei libri che a me è sembrato interessante non del tutto convincente negli anni scorsi nel decennio passato era Secular Age di Charles Taylor perché Charles Taylor in questo libro che in italiano è stato tradotto appunto come un'età secolare dice il punto è che certo siamo in un'età secolare cioè un'età in cui di fatto l'elemento religioso non è dominante per una larga parte della cultura e come dire è stato introiettato in forme ormai secolarizzate per l'appunto però anche nella nella tradizione illuminista quello che si cercava era un rapporto con la religione che non fosse di sudditanza ma che non fosse nemmeno di come dire di denegazione di rifiuto del fenomeno religioso che è ineludibile no? Un rapporto di comprensione delle dinamiche che stanno alla base del religioso e anche delle potenzialità che ha sul piano politico Voltaire in questo è maestro Voltaire dice comunque se devo scegliere preferisco che ci sia una religione che questa religione meglio se sia la cattolica perché è quella che organizza meglio lo Stato è più ferma sulle redini dello Stato ecco allora non dico di arrivare a questo che è quasi un atteggiamento strumentale però se guardiamo oggi questo è un pensiero che mi è venuto così non so è un pensiero un po' imprudente forse però se guardiamo oggi tu dicevi le religioni quella cristiana in particolare al loro sorge erano i luminismi contro l'oscurantismo della religione magica pagana o di certe forme della credenza pagana se guardiamo lo scenario delle religioni oggi sullo scenario globale la chiesa in particolare forse un po' meno quella di Ratzinger ma quella di Francesco è come dire custode di valori illuministi no? ed è custode di una riconoscenza della tolleranza quando tu dicevi il problema non è l'ateismo ma è la tolleranza e dove sono adesso i valori di tolleranza più fortemente espressi oltre che nella coscienza laica consapevole nei cristiani illuminati che non sono integralisti ce ne sono tanti anzi direi che in questo momento la chiesa nel suo esponente principale c'è in Francesco incarna un tentativo di comprensione della tolleranza abbastanza generoso meno in Ratzinger che è più attento al dogma no? allora questo mi sembra la risorsa del rapporto con la religione come luogo in cui si riconosce il ruolo della centralità delle persone per esempio e in questo il cristianismo è ha fatto propria una laicizzazione del proprio stesso messaggio che la rende sulla scena del mondo importante rilevante un alleato con cui si può condividere il tentativo di non sprofondare nella barbarie ecco questo dico è una pensione imprudente perché naturalmente la coscienza laica si ribella a quest'idea ma anche la coscienza laica è consapevole che di fronte a forme di barbarie radicale che hanno nella religione una potentissima arma fenomenale che trascina folle di matti e disperati ma anche di popolo che nella religione ha la molla che gli manca e per fortuna che appunto nei nostri paesi la religione che è più diffusa non spinge in quella direzione a meno di finire come i fanatici appunto di qualche setta americana come all'epoca con Bush insomma supremazia bianca ok quello è veramente un rischio ma questo non sembra essere nella attuale versione di come si presenta il magistero cattolico contemporaneo quindi ripensare il rapporto con la religione è un tema illuministico è un tema contemporaneo e credo che sarebbe un errore pensare che l'eredità dell'illuminismo nei confronti del tema religione sia quello di sollecitare sempre battaglie contro la religione anche le religioni istituzionalizzate con tutti i loro limiti penso che l'illuminismo invece richieda di pensare criticamente il rapporto con la religione ma costruttivamente questo è credo l'eredità oggi e penso sia da costruire qui c'è tanto lavoro da fare Karl Barth grande teologo parlava di completa profanità dopo l'illuminismo cioè la teologia ha incorporato l'illuminismo il movimento della teologia moderna è un movimento illuminista cioè c'è un'apertura al confronto con tesi come quelle di Bail e degli illuministi che la teologia moderna ha fatto proprio e cresce con incamerando la sfida dell'illuminismo che quindi non è una sfida alla religione ma è qualcosa di diverso e probabilmente di più io sui tempi della casa della cultura siamo già un po' non so se c'è qualcuno che vuole fare una domanda o è stato davvero molto molto bello e chiudiamo così ok grazie a tutti e spero di vedervi il 2 febbraio si parla di meditazioni sulla felicità pubblica con Emanuele Felice Lorenzo Sacconi e Stefano Zamagni i tre economisti un po' filosofi che ci aiuteranno a ragionare su questo tema grazie 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 grazie